eccoli qua pronti i miei gelati al caramello salato e cioccolato bianco ho fatto un buon lavoro bellissimo mi raccomando fateci sapere come sono venuto mangio adesso mangio che ti fai grande e andiamo partiamo col caramello zucchero non tegame facciamolo sciogliere lentamente senza mescolare amalgamiamo e aggiungiamo i cubetti di burro piano piano e mescoliamo continuiamo a girare ed inseriamo lentamente la panna e i fiocchetti di sale all'interno filtriamo e facciamo raffreddare vai montiamo la panna con lo zucchero riempiamo gli stampi con caramello e con la panna appena montata all'interno coprite bene gli spazi e finiamo di decorare con caramello e via in frizzera ai col cioccolato bianco a bagnomaria aggiungiamo del pop corn e caramelle e vai glassiamo i gelati con questa favolosa glassa andiamo in freezer quattro ore e non resta che mangiare eccoli qua pronti i miei gelati al caramello salato e cioccolato bianco adesso li farò assaggiare una persona speciale il mio succeso il mio succeso a lei